Prosegue con successo il progetto Il Cibo della Maiella in 365 giorni, nato in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella, l'Agenzia di Promozione Culturale, la Comunità Montana Peligna e curato dall'Associazione Movimento Zooè. Il progetto, partito nell'Agenzia per la Promozione Culturale di Sulmona lo scorso 19 ottobre, ha come obiettivo la conoscenza dei prodotti alimentari del territorio della Maiella. Il primo incontro ha avuto come tema l'introduzione alla qualità dei prodotti agricoli e zootecnici della nostra zona. Quello tenutosi ieri sera presso la Comunità Montana nel Museo di Storia Naturale dal titolo La Regina della Maiella, performance di cucina a base di erbe spontanee con racconti e personaggi, non è stata una semplice conferenza ma una vera e propria dimostrazione pratica dei possibili utilizzi delle erbe selvatiche del territorio nella preparazione di pietanze ricche e nutrienti. Partendo da una misticanza, quindi un'insalata composta di varie erbe, l'erba noce, l'agrimonia, la piantaggine, il tarassaco per dirne alcune, con bacche di rosa canina, di biancospino. Poi passeremo a un pesto di ortica fresca, quindi una sfida perché l'ortica essendo orticante impressionerà un po' questo utilizzo da pianta fresca con un pochino di pane, chiaramente di patate locale. Un assaggio di formaggio di capra con il prugnolo, quindi il prugnolo selvatico saltato in padella e le noci che sono assolutamente di stagione e per finire con il tarassaco che è la pianta regina delle piante alimentari, quindi uova al tarassaco strapazzate. Buone da mangiare e addirittura adesso arrivano anche alle cucine di alto livello perché adesso si parla di cook art con le piante spontanee, quindi proprio grandi chef. Cucina sana e naturale anche se i territori incontaminati sono sempre di meno, quindi è sempre più difficile andare a raccogliere in posti poco inquinati. E' questa un po' una piccola nota critica. Erborista Annalisa Cantelmi che è la signora della maiella in questo caso perché l'erborista è andata a raccogliere le erbe spontanee mangerecce naturalmente. Conoscerne anche dal punto di vista delle tradizioni popolari, della mitologia, dei racconti che si nascondono dietro a queste erbe e che la nostra Annalisa Cantelmi oltre che essere un'erborista è una grande conoscitrice di queste storie. Il primo anno compio il mio venticinquesimo anno di attività lavorativa, quindi sono alle nozze d'argento. Ormai sono tanti anni. Per tanti anni ho gestito una piccola erboristeria in via Pantaleo, quindi a ridotto l'annunziata sul Mona. La mia passione è nata giovanissima. L'associazione Movimento Zoe, curatrice del progetto, nasce al fine di promuovere la cultura del benessere e provare a tessere le relazioni per la nascita di gruppi di lavoro volte alla salvaguardia del benessere comune. Per tutte le informazioni in relativa ai prossimi appuntamenti del progetto Il Cibo della Maielle in 365 giorni si può consultare il sito dell'associazione all'indirizzo www.movimentozoe.com